buonasera dal vostro professore io sono il professore di vita e mi chiamo Enrico Enrico Capacci e sono la voce di chi non ha voce salve a tutti un saluto agli eroi alle eroine ai futuri eroi e alle future eroine perché se ancora se ancora qualcuno non lo sa qua sotto in descrizione c'è la mia pagina Patreon e lì potete diventare eroi ed eroine anche voi ed è anche qua in alto mi raccomando vi aspetto numerosi perché questo canale merita di essere supportato per un mondo un pochettino più decente che ti credi di essere Gesù salvatore del mondo beh sì anche perché se non mi paragono io a Gesù Cristo chi può farlo se non io chi c'è poi una differenza fra me e Gesù io parlo di cose più serie allora il titolo probabilmente vi avrà già fatto capire che oggi si parla di questa società no del mondo in cui viviamo intendendo per mondo appunto non il pianeta terra ma questo ambiente sociale che l'uomo ha costruito in quest'epoca ok la nostra società occidentale mi verrebbe da dire italiana ma in realtà la società italiana è uguale sostanzialmente alla società francese la società tedesca la società inglese la società americana la società australiana cambiano i dettagli la sostanza lo stile di vita il consumismo la felicità confusa con lo shopping il comprare cose giudicare gli altri base ai parametri è comune a tutti questi paesi e probabilmente oramai con la globalizzazione questa mentalità sta intaccando tutta tutta la terra bene si parla di società molti dentro a pepe testa hanno questo pensiero questo mondo è brutto cattivo ed ingiusto ed è vero io sono il portavoce di questo pensiero però è molto importante capire una cosa che non si deve passare la vita e il proprio tempo a lamentarsi in senso vittimistico di come vanno le cose di com'è questa nostra società imputando a questa nostra società la nostra eventuale infelicità perché non è così è chiaro che quando si scopre quella che la società soprattutto quando si va a scuola si entra nel mondo del lavoro si diventa un pochettino più grandi ma anche già nel periodo dell'adolescenza è chiaro che si si sbatte con la realtà magari rispetto alle aspettative che si avevano quando si era piccini è normale un senso di solitudine di tristezza di ingiustizia di orrore di solitudine ho passato un periodo piuttosto lungo triste perché il mondo era brutto più o meno dai 13 ai 22 anni mi sentivo male stavo male mi ripetevo che era impossibile stare bene in un mondo del genere è normale essere tristi le persone che meritano vengono trattate male le persone più spreggevoli vengono elogiate tutto ciò è ingiusto mi sento mi sento vittima di un'ingiustizia per anni l'ho pensata così dai 22 23 anni in poi è cambiato il mio approccio ma non perché sia cambiata la mia concezione della società è quella anzi oggigiorno penso ancora peggio del mondo rispetto a dieci anni fa perché vivendo mi sono reso conto veramente delle bassezze umane dei meccanismi di questa società sempre più ripugnante probabilmente ancora oggi non conosco abbastanza quanto sia ripugnante questo mondo però è cambiato il mio approccio in che senso che ho capito sempre di più e probabilmente fa cinque sei anni lo capirò ancora di più riuscirò emotivamente quindi a vivere di conseguenza ho capito che la nostra tristezza non può dipendere da com'è il mondo perché le cose esterne quindi anche le ingiustizie anche le superficialità che dominano non possono determinare il nostro umore non c'è una correlazione diretta il mondo è brutto quindi è normale che io sia triste perché io sono diverso non c'è una correlazione diretta ci può essere una correlazione ma non diretta cosa intendo che magari sì questo mondo influisce il tuo al tuo umore negativo ma non perché il mondo è così e quindi non si può essere sereni in un mondo così ma ciò dipende da come tu vivi il fatto che il mondo sia brutto quindi ciò che conta non è come sia il mondo ma come tu reagisci alla bruttezza del mondo e alle ingiustizie è normale che non ci potrà mai gridare viva che gioia che felicità vivere in un mondo del cacchio è chiaro che siccome siamo soprattutto animali sociali un'influenza c'è una sorta di senso di desolazione c'è però se si cambia il modo di reagire agli orrori si può trovare un equilibrio ok e se non lo si trova perché io non giudico chi non lo trova e continua a 30 40 anni a stare male e a detta sua per colpa della società non lo giudico però non è tanto per colpa della società ma come lui reagisce a quella che è la società chiaramente perché non giudicano un colpevolizzo perché riuscire ad approcciarsi e a reagire diversamente agli orrori della società dipende molto dalla propria forza interiore della propria autostima se vogliamo e non è un merito non è una scelta avere autostima se una persona è fragile non riesce a trovare quella forza e sente schiacciato da questo mondo io non posso giudicarlo perché se io per esempio questa forza che mi permette di reagire trovare la serenità questa forza ce l'ho non perché l'ho cercata io magari sì ho cercato di lavorare con me stesso però alla fine significa che io avevo delle basi dentro di me alcune persone magari hanno dei vuoti interiori perché magari sono stati trattati malissimo anche dei propri genitori a casa hanno sempre vissuto in degli inferni e quella forza fanno fatica a trovarla e non è colpa loro allora io perché ho questo canale il motivo di tanti miei video qual è dare forza a queste persone che magari anche la forza non la trovano magari altri la trovano molti che mi seguono ma alcuni che mi seguono no allora io voglio essere un punto di riferimento un amico un padre io ci sono non sei solo e non ti considero un fallito come gli altri ti considerano e cerco di dare degli input affettivi pur essendo distante perché comunque è importante l'emotività è qualcuno che ti dice guarda che tu sei bello così come sei e in parte degli stimoli intellettivi perché secondo me iniziando a ragionare su queste cose si può anche educare la parte emotiva e magari certe persone fragilissime con tanti vuoti dentro non potranno mai arrivare a chissà quale serenità ma almeno magari un gradino in più un gradino in più di umore leggermente migliore e comunque non è poco se prendiamo una scala dove la parte più bassa è la depressione più assoluta la parte più alta la serenità essere anziché all'ultimo gradino al penultimo già un passo in più io mi sentirei orgogliosissimo di contribuire a far risalire certe persone dall'ultimo gradino al penultimo è molto lento questo video ci sono degli anche delle pause ma non è importante bisogna impararsi imparare anche a andare con calma nei ragionamenti riflettere ascoltare dicevo dai 22 23 anni in su io ho continuato a pensare e a vedere le oscenità del mondo proprio in piano che mi da mio approccio al mondo perché perché ho iniziato a dire beh ma ok il mondo è brutto ma devo continuare tutta la vita a fare la vittima e a dire quanto è brutto il mondo quanto sono infelice quanto è ingiusto perché le persone stimano di più gli altri che me poi mi sono messo a ragionare quello che alla volta il ragionamento è tutto per curare anche la parte emotiva e mi sono detto ma scusate ma scusa Enrico a me stesso ok il mondo è brutto sono le giustizie molte persone stimano le pirla e pensano che uno come me buono delicato sensibile che non dà importanza a certe cose sia una specie di fallimento ok è vero molte persone penso che una persona come me sia una specie di fallimento non sto parlando non sto difendendo il fatto che non lavoro lasciamo perdere quella parte lì anche ma non lasciamo perdere anche solo per il fatto che io non faccio il macio non alzo le mani i maschi si trovano dinanzi a me non hanno paura e ne scappano non sono uno che riuscirebbe a vincere in una rissa sono uno che magari si commuove e ha la lacrimuccia cose che verrebbero di tutta la femminuccia ecco molte persone considerano questo è da fallito da finto uomo da mezza checca come direbbero bene è vero questa cosa ma attenzione a questo punto mi sono iniziato a dire mi sono iniziato a pensare ma chi se ne frega è triste che sia così la realtà è brutto che questo mondo sia così è sbagliato però ma chi se ne frega perché devo concentrarmi sulle oscenità che ci sono negli altri mi devo concentrare su altro sullo splendore che c'è in me che bello che sono così già all'epoca mi sentivo bello per quello che ero però mi dispiaceva che magari le persone preferissero altri a me magari anche le ragazze per dire adesso il mio umore non dipende più da cosa piace alle persone mi viene da dire poveretti che non capiscono che sono le cose veramente importanti poveretti loro perché le persone che credono che siano belle certe cose orribili e sono brutte certe cose straordinarie poi saranno tutta la vita infelice perché non riusciranno mai avere nulla di realmente importante dentro perché si concentrano sulle stronzate poi li vedi e alle prove nove guardate come sono infelici chissà perché come sono frustrati chissà perché vivono una vita non loro scendendo le cose che meno contano e già dentro di loro hanno orrori che non vedono perché per loro l'orrore è qualità e lo splendore è orrore ok allora penso a concentrarmi su quello che c'è qua dentro alcuni non vorrebbero me come amico peggio per loro ci sono delle ragazze che non vorrebbero un ragazzo come me come fidanzato peggio per loro non sanno quello che si perdono però attenzione questo pensiero deve essere reale non è che uno deve pensare di sé faccio schifo e mi autoconvinco che invece siano gli altri a perdersi perché se quella cosa è finta e non la pensi veramente non funziona stai male è lo stesso magari cerchi di far credere agli altri che non te ne frega niente in realtà sei devastato e ti senti inferiore tu puoi anche farle credere agli altri questa cosa oh guarda come se ne frega lui ma dentro di te se non è vero stai male mentre il passo è veramente convincente di questa cosa com'è possibile convincerti di questa cosa? guardarsi dentro e dirsi ma cacchio sono una persona sincera? sì è bello incontrare una persona sincera cazzo è straordinario in un monto di bugiardi sono una persona buona cacchio è bello incontrare una persona buona beh io direi proprio di sì se io incontro una persona cattiva sono contento no e viva le persone buone quindi significa che incontrare uno come me è positivo se ovviamente si ha buonsenso se uno crede che siano sfigati essere buoni quindi si è masochisti è un problema di chi è masochista è una cosa stupenda so riflettere ci sono anche persone che magari sapranno più riflettere sapranno riflettere più di me però mi sento abbastanza riflessivo profondo non mi limito alla superficie come tanti vedo che tutti giudicano e sentenziano anche dinanzi a cose orribili quando magari è già più comprensibile il giudizio vedo me stesso che dinanzi a una cosa orribile magari mi rendo conto che è brutta però non giudico non lincio perché capisco che ci può essere anche un qualcosa anzi c'è un qualcosa che non è sotto lo stesso lo stretto controllo di quella persona e quindi non c'è il mio linciare magari c'è da allontanare ma con la consapevolezza allora cacchio mi dico sono orgoglioso di me se qualcuno di voi guardandosi dentro non è orgoglioso di sé perché magari rispetto a queste qualità umane che sono sempre quelle la bontà il rispetto la sincerità l'apertura all'altro non la chiusura mentale sia per quanto riguarda le idee quindi nel confronto intellettuale ma sia anche per quanto riguarda gli atteggiamenti degli altri apertura nel senso che non che tu devi accogliere che ti dà fastidio però apertura nel senso che tu non sei un giudicante linciante e pensi che le persone vadano bene se loro sono come te io che sono buono sincero sensibile pacato delicato non è che se vedo uno aggressivo che ha la magari la parolaccia facile e anche magari un pochettino l'arroganza e a me non piace l'arroganza però se mi trovo dinanzi ad un arrogante non lo lincio per questo perché penso beh se c'è l'arroganza perché ce l'hai è una forma di difesa di fronte uno che si pone in maniera del tutto arrogante in maniera devastante io non vedo l'uomo così o la donna così che si pone così vedo l'omettino piccolino che siccome si sente fragile mette quello scudo e allora non lo lincio poi magari quando i danni che mi fa i disagi che mi reca sono troppo grandi escudo quella persona dalla mia vita il più possibile attenzione ora questo discorso non vi deve arrivare a questa conclusione allora Enrico perché quella volta ti sei arrabbiato con quello e gli hai detto quello quella volta perché io lo so dicendo che sono arrivato ad una condizione di perfezione in cui mai mi capita di giugare nessuno mai mi capita di dire una bigiuola non è quello il punto siamo esseri umani che si possono commettere degli errori ogni tanto essere anche girati male perché magari ci ci vedete presto la mattina e reagire diversamente rispetto a quello che è il normale comportamento proprio ma questo non significa niente io mi sto dicendo di una tendenza generale poi gli errori capitano l'importante è rendersene conto e allora cacchio il mondo continua ad essere brutto ingiusto ma a me non me ne frega più per quanto riguarda il mio umore poi io mi interesso lo stesso e spesso il mio slogan è cerchiamo di migliorare questo mondo perché? ma non per migliorare il mio umore che ho già trovato un parziale equilibrio poi si può sempre aumentare l'equilibrio a me interessa continuo a dire miglioriamo il mondo perché comunque ci sono delle persone che non riescono a trovare quella serenità e continuano a stare male tutta la vita per colpa delle incattive e dell'ingiustizia degli altri allora se da un lato voglio sottolineare che non bisogna però dare colpa al mondo ma trovare la propria serenità allo stesso dall'altro lato però è importante migliorare il mondo perché se certe persone stanno male magari fanno anche le vittime in maniera eccessiva non comprendendo che dovrebbero trovare una forza interiore più che non comprendendo non riuscendo a trovare una forza interiore ed è un fatto questo però se non ci fossero le cattive e se non ci fossero le ingiustizie queste persone non avrebbero il problema di dover trovare una forza interiore per riuscire ad affrontare meglio l'esistere e allora eliminando il problema della radice ci sarebbe tanto meno sofferenza ecco perché comunque mi interessa migliorare il mondo sia perché oggettivamente un mondo di persone umane e pensanti è un mondo più bello sia perché le stesse persone non pensanti e disumane stanno male anche quelle che fanno del male agli altri sono loro i primi a stare male loro lo faccio anche per loro non perché ne possa ricevere un premio ma siamo qui su questa terra io credo che si parla tanto di sogni di ambizioni io penso che l'unico sogno che uno dovrebbe avere dovrebbe essere fare un qualcosa per migliorare la propria realtà e quello del posto in cui si vive questo è ma per quanto riguarda le grandi tematiche non perché c'è una bucca sotto casa quindi tappiamola per carità si può fare ma sono altre le cose che ci fanno svegliare magari che fanno svegliare le persone di umore storto umore più elevato no? e poi lo faccio perché sono tante persone che soffrono ingiustamente e non è che siccome io ecco io non sono uno snob siccome io ho raggiunto una sorta di serenità e veramente che non significa che io non soffra mai attenzione però tendenzialmente mi sento bene oggi poi magari fa dici anni cambierà io vi parlo del presente a oggi mi sento così allora non è che siccome io ho trovato dopo che ho capito che il mondo era una scenità ho trovato una forza interiore che mi ha fatto dire cacchio ma non è il mondo non sono le cose esterne le ingiustizie che causano la mia tristezza ma come io reagisco a quelle ingiustizie come io reagisco ai giudizi della gente e allora ho trovato una sorta di serenità allora non per questo però ci sono tante persone che continuano a fare le vittime a lamentarsi del mondo brutto dicono che stanno male è impossibile stare bene in un mondo del genere non è che li giudico ma io ce l'ho pur fatto io sto pur bene perché loro non sono me se vanno alla forza interiore io li posso capire se io non avessi avuto se io avessi avuto un passato più traumatico nonostante io dei traumi li abbia avuti io ho avuto un bullismo molto feroce per due anni però se sono riuscito a reagire in un certo modo al bullismo è perché magari avevo a casa un ambiente sereno alcune persone magari hanno avuto un bullismo e avevano un ambiente infernale a casa e poi magari avevano anche una genetica sfavorevole per certe cose quindi li posso capire ed ecco perché mi batto per essere la loro voce per dargli forza e per scadermi questa realtà perché se il mondo immaginiamo in un mondo in cui ci fosse generica bontà generica sincerità vorrei riassumere se ci fosse un mondo con tanti e ricchi diciamola in maniera schietta e non è per autoesaltarmi questa cosa viene vista come narcisismo ma non è narcisismo perché non è un merito che io sia così è un fatto e non me ne vanto non me ne fega niente di vantarmi di cosa dove vantarmi quando dico che non ho deciso io di essere come sono se ci fosse un mondo di persone come Enrico buone sincere che non solo non prendono in giro gli altri ma addirittura persone come me che se vengono prese in giro insultate dopo un po' si difendono ma comunque con delicatezza perché comunque essendo umane fino in fondo hanno paura comunque di dar fastidio all'altro e quindi non si bastano mai a certi livelli proprio perché non hanno dentro la possibilità nemmeno di farlo io non ho nemmeno i neuroni per dire certe cose cattive agli altri c'è gente che a me mi augura cose cattivissime c'è uno che mi ha scritto ve l'ho fatto vedere ti auguro che uno ti picchi e tu possa rimanere invalido e possa comunicare solo quei gesti ecco io non riusci non solo a dirla ma neanche a contemplare una frase simile ecco immaginiamo un mondo dei ricchi del genere tu sei fragile hai poca autostima bene se trovassi in un mondo con tutti i ricchi a scuola in posto di lavoro nella tua famiglia questa tua fragilità che cosa comporterebbe? nulla nel senso riusciresti comunque a trovare un tuo spazio la tua gioia degli buoni amici un buon fidanzato una buona fidanzata e quindi non pagheresti le conseguenze della tua fragilità ecco perché mi piacerebbe l'idea di un mondo migliore è chiaro però che il mondo è uscene quindi è importante che io vi dica anche guardate che c'è anche un'altra soluzione al dia del mondo che è brutto ovvero iniziare a capire che il potere ce l'avete voi se riuscite a farvi forza a inorgogliervi ovviamente trovare le ragioni per inorgogliersi allora guardate che potete trovare una sorta di serenità poi è chiaro se una persona è bugiarda è meschina per il pericolo degli altri perché poi alcuni sono così magari anche per reazione a cose che hanno subito si sono incattiviti è chiaro che fanno fatica poi a essere orgogliosi di sé e basare la propria felicità sull'orgoglio verso se stessi quando in primis si è carnefici rispetto alle oceanità di questo mondo ecco perché l'unica strada è la bontà Enrico però se io sono buoni gli altri sono cattivi come posso essere felice paradossalmente è meglio essere cattivi in un mondo di cattivi no no assolutamente se tu hai bisogno di essere cattivo vuol dire che ancora non stai bene poi sono persone che sono buone che sono rispettose che non fanno dei mali agli altri e lo stesso stanno male probabilmente per una fragilità molto forte ripeto secondo me cercando di abbandonare il giudizio nei confronti di se stessi sensi di colpa che non hanno ragione di essere e ascoltando le mie parole e iniziando a riflettere su queste cose si può leggermente curare la parte emotiva e trovare quella forza in più ovviamente se questa forza in più non cresce abbastanza può non bastare per trovare un umore accettabile allora io per quello del mio piccolo cosa cerco di dire io ci sono e ti voglio bene non te lo dico in maniera ipocrita come fai a dire ti voglio bene magari a degli sconosciuti è chiaro che sto dicendo un ti voglio bene mi riferisco a persone che magari non conoscono non ho mai incontrato dal vivo che magari non ha la valenza che può avere un mio ti voglio bene ad una persona nella mia vita a cui sono affezionato e magari piangerei per due mesi se muore ok però non ti voglio bene nel senso che ti capisco e quindi il mio animo ha a cuore il tuo benessimo mi piacerebbe tanto che una persona come te possa stare un pochettino meglio ne sarei veramente felice e mi dispiace che ci sia questo generico te mi rivolgo a tanti che mi stanno ascoltando che stia male perché una serie di eventi della tua vita ti hanno portato a essere fragile in più questa fragilità si sconta con le cattiviere della gente e quindi tu non trovi un equilibrio mi piace davvero tanto però io sono qui per dire ti voglio bene così come sei così come sei guarda e voglio anche andare oltre c'è una persona cattiva spregevole che fa del male agli altri bene le persone non dovrebbero essere così quindi ti dico cambia o comunque ambisci a cambiare anche se non lo puoi fare dall'oggi a domani però mi viene a dirti ti voglio bene anche a te c'è un pedofilo che fa del male ai bambini ti voglio bene anche a te mi dispiace devi aver subito chissà quali orrori per essere diventato pedofilo per essere diventato un assassino per essere un serial killer voglio bene anche a te chiaramente le persone che stanno male e non fanno del male agli altri hanno maggiormente la mia stima hanno la mia stima al contrario di quelli che fanno del male agli altri però in questo video voglio addirittura lanciare un piccolo pezzo del mio cuore della mia mente anche alle persone spregevoli perché mi dispiace devono aver subito chissà cosa poi è chiaro che la mia simpatia la mia stima e il mio affetto principale va alle persone che non fanno del male agli altri ci mancherebbe perché una persona che si lamenta la propria tristezza e sta male ha un pochettino tra virgolette di diritto in più di lamentarsi se lui stesso non fa del male alla società uno che sta male e rende questo mondo un'oscenità perché anche lui fa del male ha un po' meno diritto perché comunque si lamenta di un male che è anche lui stesso a fare agli altri bene ragazzi io spero che questo mio video molto abbraccio molto spontaneo ma molto bello credo vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettere il pollice in su un saluto a quelli che metteranno il pollice in giù quindi salutiamo anche 200 non mi piace il pagamento salutiamo gli euro gli euro spesi per riempire di non mi piace questo video condividete in massa e vi abbraccio carissimi vi abbraccio